ok viaggio è il suo bioc quello che è bianco su bianco non si vedrà un cazzo nel video rimane vicino un po tutto quanto che c'è messo devi dire un poco che regolatore c'è messo regolatore 60 ampere preso dal carbonzena motore 3000 kv free wings e ventola da 70 mm bello questo passaggio ma che è successo? stallo stallo ma stava fermissimo sta amici sta apposta tipo frecce tricolose poveri è un passaggio lento si ma devi fare bene vai piano piano alza con il palice sinistro in pendolo e dai gas e vedi che rimane imbannato non devi viderlo sei dritto certo se viderlo è facile è proprio dritto oh e dai motore e devi dai motore quando stai così e rimane capito? eh eh rimane imbannato quello è bello che vedi che venti sta alzato? beh buono mi ha detto ci tiene la pioggia via se non il monstro è già pioggia non so che si trova nel video perchè ma è finito? no no il timer l'hai messo Fai un roll a bassa quota Oh, due la batteria Oh, due la batteria Autunna, man Oh, due la batteria Ce la fai, ce la fai, ce la fai Ce la fai, ce la fai Giralo, togli il motore Ah, poi, dove cazzo cade cade Vai viaggio che sei un campione Vai Spettacolo Spettacolo viaggio Di lusso proprio è uscito La solita ruota Di lusso C'è l'X8 In realtà è vero il X8 Si, ce l'ho il Massi Massi Di lusso di un nerd Tutta basta, wow Ciao